188 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo e quanto emerge dall'analisi di 5.522 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 3,4%. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 88. La provincia più colpita nelle ultime 24 ore è quella dell'Aquila dove si registrano 64 nuovi casi. Seguono il Chietino con 44 casi, il Teramano con 41 casi e il Pescarese con 39 casi. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. Oggi il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 2041, di cui 13 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. I guariti sono 343. Lieve calo del numero di pazienti ricoverati, gli ospedalizzati in area medica sono 657, 13 in meno rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 87, due in meno rispetto a ieri ma con due nuovi ricoveri. Stando alla mappatura delle aziende sanitarie, oggi in Abruzzo i positivi sono 10.895, 173 in meno rispetto a ieri.